Una parola che, su questo che diceva Padre Lombardi, si ripete tanto è insicurezza. La vera parola è guerra. Da tempo, diciamo, il mondo è in guerra a pezzi. Questa è guerra. C'era quella del 14, con i suoi metodi, poi quella del 39-45, l'altra grande guerra nel mondo. Adesso è questa. Non è tanto organica, forse. Organizzata sì, ma organica, dico. Ma è guerra. Ora, questo santo sacerdote che è morto proprio nel momento che offriva le preghiere per tutta la Chiesa, è uno. Ma quanti cristiani, quanti innocenti, quanti bambini. Pensiamo alla Nigeria, per esempio. Ma quello è l'Africa. È guerra. Non abbiamo paura di dire questa verità. Il mondo è in guerra. Perché ha perso la pace. Grazie tante del vostro lavoro in questa giornata della gioventù. La gioventù sempre ci dice speranza. Speriamo che i giovani ci dicano qualcosa che ci dia un po' più di speranza in questo momento. Quando io parlo di guerra, parlo di guerra sul serio, non di guerra di religione. No. C'è guerra di interessi. C'è guerra per i soldi. C'è guerra per le risorse della natura. C'è guerra per il dominio dei popoli. Questa è la guerra. Qualcuno può pensare che sta parlando di guerra di religione. No. Tutte le religioni vogliamo la pace. La guerra la vogliono gli altri. Capito?